Buongiorno a tutti, innanzitutto vogliamo ringraziare gli organizzatori di questa giornata per averci offerto l'opportunità di presentare i risultati del nostro progetto Bioscult in questa sede. Il progetto Bioscult è stato condotto da me e dalla collega Martina Borroni presso la Scuola Normale Superiore dal 2020 sotto la supervisione scientifica del professor Gianfranco Adornato e grazie alla fondamentale collaborazione del Museo Archeologico Nazionale di Firenze che teniamo a ringraziare. Il progetto rientra in un programma di intervento più ampio che è il programma Comast dedicato all'analisi, alla digitalizzazione, alla disseminazione multimediale delle collezioni museali e degli archivi storici toscani. Bioscult nello specifico ha come oggetto di ricerca le sculture in marmo della collezione del Museo Archeologico Nazionale di Firenze che agli inizi del Novecento erano state esposte dal direttore Luigi Adriano Milani nel giardino dell'allora Regio Museo ma che in seguito all'alluvione del 1966 sono state trasferite negli anni Ottanta a Villa Corsini a Castello e in parte queste sculture oggi sono esposte in alcune sale appositamente musealizzate ma per la maggior parte si trovano ancora nei depositi della villa. Gli obiettivi del progetto sono stati principalmente due, il primo studiare e catalogare le sculture inserendoli in un database che faciliti le future ricerche sulla collezione, il secondo effettuare indagini sullo stato di conservazione dei marmi soprattutto sui diversi stati di degrado causati dalla lunga permanenza nel giardino del museo. Abbiamo adottato un approccio interdisciplinare basato sulla sinergia tra la ricerca storico-artistica e la ricerca tecnico-scientifica finalizzata alla biografia ossia alla ricostruzione delle fasi di vita dalle più antiche alle più recenti delle sculture. Per quanto riguarda la ricerca storico-artistica è stata svolta secondo questi punti innanzitutto è stato effettuato un censimento di tutte le sculture conservate a Villa Corsini sia quelle esposte sia quelle conservate nei depositi e una prima analisi autoptica. Contestualmente è stata portata avanti una campagna fotografica di tutte le sculture e anche dei frammenti marmori più piccoli. Si è poi potuto procedere con l'identificazione delle opere grazie al confronto con le descrizioni e le immagini riportate nel primo catalogo del museo pubblicato da Luigi Adriano Milani e una volta identificate le opere si è potuto procedere con il riscontro inventariale ossia con la verifica ma anche con il recupero dei numeri di inventario che in seguito all'alluvione al trasferimento delle opere erano andati perduti. Lo step successivo è stato poi l'approfondimento delle vicende collezionistiche della storia conservativa di queste opere tramite la ricerca d'archivi o svolta presso gli archivi del MAF ma anche presso altri archivi fiorentini come per esempio l'archivio di Stato o gli archivi degli Uffizi. Tutti i dati raccolti grazie all'analisi autoptica e grazie alla ricerca documentale sono stati inseriti in un database appositamente creato insieme allo staff del MAF dove sono state inserite tutte le sculture e i frammenti marmori oggi conservati a Villa Corsini per un totale di 935 pezzi. Si tratta di uno strumento preziosissimo per la gestione delle opere da parte del museo ma anche per l'avvio della ricerca e di un approfondimento su queste stesse sculture. Infatti grazie a questo lavoro è stato possibile individuare dei casi di studio di interesse che abbiamo potuto approfondire grazie alla nostra metodologia interdisciplinare. I risultati sono stati presentati in convegni anche internazionali e in contributi in corso di pubblicazione. Ma l'esito forse più importante in termini di visibilità dei risultati del nostro progetto è stata la mostra che abbiamo potuto inaugurare lo scorso 18 ottobre a Pisa presso la Scuola Normale Superiore che ci ha consentito di portare a Pisa dai depositi e dalle sale di Villa Corsini quattro pezzi che abbiamo selezionato e di raccontare il nostro progetto di ricerca al vasto pubblico quindi non solo a un pubblico di addetti ai lavori. In soli due mesi abbiamo avuto ben 1500 visitatori quindi siamo state abbastanza soddisfatte e in occasione della mostra abbiamo potuto anche organizzare un ciclo di seminari che ci ha consentito di approfondire alcuni temi legati al nostro progetto di ricerca. Prima di passare la parola alla collega alcune prospettive nate dalla ricerca storico-artistica. Lo studio di Marmi mi ha spinto ad approfondire alcuni aspetti di collezionismo fiorentino e di storia del restauro e i primi risultati di questi lavori sono stati presentati anche in occasione dello scorso annual meeting dell'American Archaeological Institute e quindi questo mi ha permesso di portare il nostro progetto oltreoceano. Grazie. Per quanto riguarda la parte più tecnico-scientifica di cui mi sono occupata ho lavorato presso il laboratorio ONEST di nanotecnologie della scuola normale superiore sotto la direzione del professor Beltram. La parte di analisi sui nostri marmi si è concentrata sull'utilizzo di strumentazione non invasiva in quanto avevamo a che fare con una quantità ingente di materiale e ovviamente di difficile trasporto e volevamo evitare di prelevare campioni. Una prima parte di studio si è concentrata sullo stato di conservazione e in quanto sono presenti molti pezzi non ancora restaurati e quindi mostrano una serie di degradi di tipo legati a un ambiente di tipo outdoor quindi esterno che quindi caratterizzano le opere in maniera particolare come potete vedere crozze nere, pitting o macchie di ruggine e queste appunto sono indice di uno stato piuttosto precario della maggior parte di questi pezzi. Una delle strumentazioni portatili è stata l'utilizzo del microscopio che ci ha permesso di indagare in maniera più approfondita le caratteristiche microscopiche del marmo per riuscire a discriminare diverse tipologie di questo materiale spesso non così facilmente distinguibili e alcuni dei nostri casi studio più importanti infatti sono stati, hanno questo tipo di tecnica ha permesso di avere delle informazioni molto utili soprattutto per quanto riguarda frammenti che erano stati ricollocati. La parte invece di ricerca di laboratorio si sviluppa su due fronti, in laboratorio c'è stato uno degli obiettivi proprio del progetto era quello di sviluppare nuovi prodotti innanzitutto per nell'ambito del restauro quindi è stato sviluppato un prodotto a partire dalla polvere di marmo che potesse aiutare in ambito del restauro quindi con un'alta compatibilità con il materiale di partenza, resistenza, modellabilità e un forte potere adesivo. Qui potete vedere un esempio di una tecnica che è stata ideata ovvero quella di sfruttare la stampa 3D per utilizzare un materiale diciamo di supporto molto leggero come può essere un polimero ma ricoperto poi da un materiale che va a che diventa praticamente simile e molto molto uguale al marmo di partenza. L'altra parte invece della ricerca di laboratorio è legata più al trasferimento tecnologico. Qui si vede la collaborazione con l'azienda che ha cofinanziato il progetto, un'azienda importante a livello di lavorazione del marmo che quindi ha come principale scarto di fabbrica la polvere e le sabbie del marmo. Quindi si è cercato di creare una sorta di marmo ricostruito che in questo momento è sotto diciamo la tecnica e il prodotto è stato presentato come domanda di brevetto e potrebbe diventare appunto la partenza per una creazione di una spin off congiunta tra l'azienda e la scuola normale. E questo materiale diciamo che a livello aziendale potrebbe essere utilizzato in ambito di edilizia o di realizzazione di oggettistica e design. Un ultimo sviluppo del progetto è stato più in ambito digitale in quanto la scuola ha già riuscito a istituire questa spin off in NextArt che ha come obiettivo quello di creare una piattaforma digitale che ha come finalità l'archiviazione di modelli tridimensionali che siano uno strumento di ricerca in particolare per studiosi per ricercatori in quanto contengono una serie di informazioni sia dal punto di vista diagnostico ma anche informazioni storico artistiche che vedano quindi sede all'interno del modello stesso quindi un luogo di studio interattivo e molto immersivo. Questa piattaforma vorrebbe diventare anche un metodo di autofinanziamento per l'istituzione che vorrà utilizzare questa metodologia con le nuove tecniche di NFT quindi di vendita di una copia digitale di un oggetto. Con questo vi ringraziamo dell'attenzione se avete domande.